Nuove assunzioni alla FPT Vecco di Foggia e fine, a partire da oggi, del contratto di solidarietà iniziato ad agosto 2021. L'azienda ha comunicato ai sindacati che nel nuovo piano industriale gli investimenti di 37 milioni di euro porteranno al potenziamento occupazionale. L'azienda ci ha comunicato che intende assumere nuova forza lavoro, quindi meglio creare un bacino attraverso l'emanazione di un bando dal quale attingere lavoratori in base alle necessità. E l'avvio anche ad aprile del nuovo stabilimento di Vecobus con altri inserimenti anche in questo settore, quindi lavoro anche su un altro comparto. È una cosa positiva per il territorio? È una cosa molto positiva considerando che il nostro stabilimento è il secondo stabilimento in Puglia come grandezza, quindi noi organizzazioni sindacali siamo contentissimi per questa comunicazione. Evitati quindi 650 esuberi stimati a seguito della perdita di motori Ducato e prospettive più rosee per i circa 1600 dipendenti. Lo stabilimento produttivo più importante di Capitanata si è via ad una fase di riferimento in un territorio arido sul piano occupazionale. Passare dal contratto di solidarietà addirittura a nuove assunzioni è una notizia che ci ha lasciato sorpresi anche noi. Da oggi si riparte in pieno regime per il nostro stabilimento. Ci saranno degli straordinari sul volontariato, quindi partiamo alla grande. Significa che i sacrifici che sono stati fatti in passato sono serviti a qualcosa? Siamo stati ripagati oggi di questo sacrificio con questi investimenti e il futuro dello stabilimento di Puglia che è un punto centrale, un punto fermo dell'Iveco.